Ben trovati dal Tg della Mobilità Europea di Calcio, domani dalle 21 Italia-Svizzera. Avere i fori imperiali sarà allestito un maxi schermo, mille al massimo le persone ammesse. E dalle 10 di domani sarà chiuso il tratto tra Largo Coradorici e Piazza Venezia, con la deviazione delle linee di bus 51, 85, 87, 118. Dalle 19 chiusura anche tra Largo Coradorici e il Colosseo. Si sposteranno anche le linee 75, 117. Il servizio delle linee metro A, B, B1 e C sarà prolungato sino all'1.30 di notte. E anche stavolta navette per i tifosi, tre i punti di prelievo, la stazione metro A Cipro, la stazione Termini e il parcheggio di Tor di Quinto. Le navette sono integrate da percorsi pedonali e ciclabili, da parcheggi e da postazioni taxi. È tutto per questa edizione del Tg della Mobilità. Grazie.